Allerta meteo arancione per domani nel centro nord delle Marche. La regione attiva la fase di preallarme, la protezione civile e la prefettura di Pesero Urbino consigliano i sindaci la chiusura delle scuole, scuole chiuse anche a Sevilla. Colture distrutte dalla grandine, per col diretti i danni sono irreparabili, allarme anche per la produzione del miele di acacia, le api stanno lavorando in forte stress. Taglio del nastro a Rosciano di Fano per le due nuove rotatorie, a Civile al via ai lavori per il nuovo rondo all'ingresso del quartiere, e la pista ciclabile verrà prolungata di 60 metri. Comunità di calcinelli in festa per il centesimo anniversario della chiesa di Santa Croce, il novecento al pranzo che ha concluso la settimana di celebrazione. La bottega di Vallefoglia è inaugurata la quarantaquattresima mostra del libro per ragazzi, che quest'anno rende omaggio a Renata Gossoli, coinvolte 50 classi delle scuole primarie e dell'infanzia e i licei artistici di Urbino e Pesero. Stasera dopo il telegiornale, torna in diretta a Primo Cittadino, ospite il sindaco di Bergola, Simona Guidarelli. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, la sala operativa della protezione civile delle Marche ha diramato un nuovo messaggio di allertamento di livello arancione sulle zone 1, 2, 3 e 4, cioè nel centro nord della regione e di livello giallo sulle zone 5 e 6 per criticità idraulica e idrogeologica. L'allerta ha validità per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio. Sono previste piogge diffuse e persistenti anche a carattere di rovescio o di temporale con medie areali moderate su tutte le zone di allerta e picchi locali molto elevati nelle zone 1, 2 e 4 ed elevati nelle zone 3, 5 e 6. Sono previste raffiche di vento fino a burrasca e mare agitato con onda proveniente da est e sud-est. Circa un'ora fa è arrivata una nota del prefetto. In molti comuni verranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, ma proprio il prefetto ha consigliato ai sindaci insieme alla sala operativa della protezione civile di chiudere le scuole. Di seguito alla riunione svolta sin data odierna in videoconferenza riguardante l'attivazione della fase di attenzione con allerta arancione per la criticità idrogeologica e idraulica di cui al messaggio di allertamento meteo indicato in oggetto si rinnova, questa è la nota del prefetto, la preghiera di voler disporre ogni misura di prevenzione utile ad eliminare o quantomeno a mitigare possibili rischi alla pubblica e privata incolumità. In particolare si evidenzia la necessità anche su indicazione del comitato regionale operativo riunitosi questo pomeriggio di aprire i rispettivi COC e di valutare la possibilità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado presenti nei rispettivi territori. Comunque ci saranno degli aggiornamenti di certo Fano, Pesaro e Mondolfo, le scuole verranno chiusi, ma anche a Senigallia il sindaco Livetti ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dei centri diurni disabili, del centro diurno Alzheimer, delle attività, delle strutture per l'infanzia da 0-3 anni pubbliche e private, ma anche del centro pomeridiano Germoglio. Tra l'altro a Fano il COC verrà attivato e come previsto dal piano verranno fatti partire i monitoraggi e i corsi d'acqua principali e secondari. Dopo il messaggio di allertamento è scattata subito la fase di preallarmi. L'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi ha fatto sapere che a partire da questa notte verrà rafforzato il personale della sala operativa unificata permanente, prevista inoltre l'attivazione delle SOI, le sale operative integrate di Pesaro Urbino e di Ancona ed è stato convocato il centro operativo regionale in collegamento con tutte le prefetture. Pertanto, ha spiegato Aguzzi, tutti gli strumenti a disposizione sono stati messi in campo per monitorare nella maniera più puntuale possibile l'evolversi della situazione meteorologica. Nelle prossime ore quindi si raccomanda sempre la massima attenzione di seguire le indicazioni dei comuni. Infatti, si potranno verificare fenomeni diffusi di instabilità diversante e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Si prevede inoltre che le precipitazioni continueranno a fasi alterne fino alla giornata di giovedì. E questa sera dalle 9 torneremo in diretta con il sindaco di Pergola per cui riusciremo a darvi maggiori informazioni. Intanto, a causa della grandine e del maltempo che venerdì scorso ha colpito le province di Pesero-Urbino, Macerata e Ascoli, Coldiretti ha registrato danni irreversibili su vigne, grano, girasole, mais e frutteti in zona Tavernelle di Pesero, Carignano di Fano e Monbaroccio e Vallefoglia. A Cartocetto sono stati segnalati smottamenti. Tra Grottamare e Ripatransone è stata colpita la zona dei Vivai. L'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma con una tendenza alla tropicalizzazione che, ha spiegato Coldiretti in una nota, si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. E a causa del maltempo e del caldo anomalo di febbraio e marzo è a rischio anche la produzione annuale del miele di acacia, uno dei miei più pregiati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Lonigro che ha intervistato il presidente del consorzio apistico di Pesero Urbino. Un chiaro segnale d'allarme lanciato dai consorzi apistici delle marche in merito alla produzione del miele d'acacia, top di gamma per quanto riguarda le varie tipologie di mieli. Purtroppo ormai da qualche anno a questa parte si stanno verificando delle condizioni avverse legate soprattutto ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo un po' tutti perché poi questa cosa penso la vivono gli apicoltori ma la vivono anche tutti noi le viviamo. Succede questo che ad inverni molto miti e caldi si alternano poi una primavera come in questo caso quest'anno molto fredda e piovosa. Quindi sostanzialmente il fiore d'acacia che tra l'altro è molto delicato una pianta che fiorisce in un tempo molto breve per 15-20 giorni a cavallo fra aprile e soprattutto nel mese di maggio subisce le conseguenze dei ritorni di freddo piuttosto che della piovosità e del vento incessante. Le api fondamentalmente non riescono poi a approvvigionarsi di questo nettare e quindi non producono miele. Un'emergenza già nota agli apicoltori. Il presidente Oliva infatti ha dichiarato che si stanno verificando le stesse condizioni meteo degli ultimi anni. È successo già nell'ambito delle marche sicuramente nell'anno 2019 e nel 2021 dove addirittura questi fenomeni sono stati estremi per cui delle gelate tardive e qui abbiamo avuto una perdita quasi del 100%. La conseguenza è che bisogna per forza per salvaguardare la vita delle api non la produzione andare a alimentare le api in piena stagione cosa che raramente anzi non si faceva mai proprio per consentirne la sopravvivenza. E ci sono stati dei casi anche di moria di api legati proprio a questa carenza di nettare. Importante è l'intervento della Regione Marche che in quell'occasione aveva offerto un provvedimento specifico per garantire la sopravvivenza delle imprese apistiche. In forma pionieristica già nel 2019 la Regione Marche ha, mediante un provvedimento abbastanza innovativo nel senso per il settore apistico, destinato una quota del proprio bilancio per quanto riguarda il contributo straordinario da fornire al settore. Sicuramente un piccolo contributo rispetto alle perdite che ci sono state però in qualche modo è stato significativo perché la Regione Marche è stata una delle poche anzi forse l'unica insieme alla Liguria a varare un provvedimento del genere. La cosa si è ripetuta anche nel 2021 consentendo o spendendo qualche soldo della comunità per un ritorno che alla fine la comunità ha perché l'impollinazione è a favore di tutti insomma. Il miele da caccia è tra i mieli più pregiati prodotti dalle api marchigiane e oggi è a rischio a causa dei cambiamenti climatici. La qualità di questo miele deriva proprio dal fatto che è un monoflora si chiama monoflora, un miele fatto di un solo tipo di fiore e il miele da caccia diciamo che oltre ad essere una delle prime produzioni per quanto riguarda il territorio marchigiano è anche un miele molto delicato, un miele che rimane sempre liquido ha un sapore di confetto, di vaniglia è uno dei mieli più neutri che diciamo si utilizza anche per dolcificare delle bevande quali il caffè piuttosto che altre bevande che hanno sostanzialmente, ha la caratteristica questo miele di non cambiare, alterare diciamo il sapore delle bevande ecco perché si usa. E fra l'altro è anche il primo miele per l'utilizzo per i bambini perché poi non cambiando troppo il sapore dolcifica e consente poi di passare la fase successiva al Millefiori Passiamo ora alle elezioni amministrative con i cittadini tornati alle urne in 15 comuni marchigiani a livello regionale ha votato il 57% degli aventi diritto quasi due punti sotto le precedenti elezioni dove era stato registrato il 58,76% gli scrutini sono ancora in corso in diversi comuni a Chiara Valle è Cristina Amicucci è stata eletta sindaco con oltre il 40% delle preferenze mentre a Ostra Vetere ha vinto Massimo Corinaldesi a Maiolati Spontini è stato confermato primo cittadino l'avvocato Tiziano Consoli che lo scorso ottobre aveva lasciato l'incarico dopo il commissariamento del comune a causa delle dimissioni di alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione appena San Giovanni nel Maceratese quarto mandato per l'unico candidato Stefano Burocchi già sindaco dal 94 al 2002 e dal 2018 ad oggi a Gagliole confermato sindaco Sandro Botticelli mentre a San Ginesio Giuliano Ciabocco nei comuni con più di 15.000 abitanti si andrà al balottaggio nel caso in cui nessun candidato raggiunga la soglia del 50% più uno dei voti il secondo turno è fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio a Falconara però Stefania Signorini sindaco uscente è stata già confermata al primo turno a Dancone invece lo spoglio è ancora in corso si profila un testa a testa tra il candidato di centrodestra Daniele Silvetti e la candidata della centrosinistra Ida Simonella Pesaro Urbino era l'unica provincia marchigiana a non avere nessun comune impegnato al voto in questa tornata di elezioni poi domani in rassegna stampa vi daremo conto di tutti i risultati Cambiamo argomento dopo alcune modifiche oggi pomeriggio sono state inaugurate le due nuove rotatorie a Rosciano di Fano che hanno messo in sicurezza le intersezioni all'altezza del Codma particolarmente trafficate e pericolose Massimo Foghetti siamo nella rotatoria che è stata realizzata dall'amministrazione comunale nei pressi del Codma qui convergono molti automezzi convergono da Rosciano convergono dalla zona industriale di Bellocchi e tutto il giorno questo punto è molto trafficato in passato è stato oggetto di diversi incidenti stradali da quando l'amministrazione comunale ha realizzato due ingenti opere una rotatoria più grande ed una più piccola la situazione si è equilibrata si è tranquillizzata è stata introdotta più sicurezza questa opera ha comportato un lavoro lungo che ha così costituito due step sì c'è stata una rivisitazione del progetto originale proprio alla luce di quelle che sono state delle dinamiche della nautica che sono modificate e non solo della nautica ma di mezzi di trasporto eccezionali che avevano difficoltà negli accessi ma anche proprio delle stesse persone nella sicurezza di pedoni di ciclisti di un fosso di guardia di tutta quella che era un'attività idraulica di cordoli che l'hanno raffinata l'hanno delimitata nel suo perimetro e anche nella sua sicurezza quindi oggi veramente siamo molto soddisfatti di quello che è l'opera nella sua rifinitura anche di verde perché è stata anche vegetata proprio per migliorarla nella funzionalità tutta quindi in un apparato che possa essere sostenibile a tutti gli effetti un altro rendering che giunge alla fase esecutiva alla realtà sì proprio di sì ovviamente i rendering ci aiutano a spiegare prima che l'opera venga realizzata la cittadinanza c'è chi fa anche dell'orinia spesso che siamo l'amministrazione del rendering ma vedete giorno dopo giorno ogni rendering diventa realtà qui non nascondo una grande soddisfazione è vero ormai siamo abituati a vedere questa rotatoria già utilizzata perché ormai le opere non interrompono completamente la viabilità qui abbiamo raggiunto il culmine con anche la piantumazione del verde e quindi abbiamo deciso di inaugurarla quando in realtà la rotatoria è già conosciuta da tutti però ci piace sottolineare il risultato perché non dimentichiamo che questa era un'arteria pericolosa tanti gli incidenti alcune tragedie è stato sempre un nostro impegno quello di realizzare questa rotatoria utile per chi vive da queste parti ma è utile a tutta la città perché è una rotatoria di collegamento è stata di collegamento tra quartieri popolosi con la zona industriale di passaggio da una parte all'altra della città anche con il traffico pesante e quindi è un'infrastruttura è un'opera veramente importante è un'opera che mette in sicurezza e rende più scorrevole anche la percorrenza di queste strade quindi è un elemento di soddisfazione è un altro impegno che ci eravamo presi che è stato realizzato siamo giunti ormai quasi alla fine della tornata amministrativa quindi le opere per quanto riguarda la viabilità si sommano ce ne sono altre che in questo momento sono in corso di esecuzione sono tante le opere stiamo cantierando abbiamo quasi tutte appaltate quasi una cinquantina di milioni di lavori che vedono più settori della nostra città fra l'altro in questo periodo hanno ripreso anche le asfaltature per migliorare la qualità delle strade perché ci sono ricordo che in questi anni abbiamo asfaltato oltre 130 km di strade ma ovviamente essendo 400 ce ne sono tante altre ancora da fare ma stanno partendo anche opere di riqualificazione da parte delle città interventi in altre zone in altri quartieri insomma tanti rendering che diventeranno realtà e a proposito di strade a Fano continuano i lavori di asfaltatura questa mattina è iniziato l'intervento di riprissino in Viale Romagna e in Viale Primo Maggio i lavori proseguiranno per circa una settimana e oggi l'assessore Brunori ha annunciato anche l'avvio del cantiere a Fenile di Fano per la nuova rotatoria all'ingresso del quartiere allora sentiamo i dettagli sull'intervento ma anche in che modo cambierà la viabilità a proposito di rotatoria è proprio questa mattina è partito il cantiere anche della rotatoria di Fenile un'opera strategica che abbiamo condiviso assieme alla provincia che dalla prima ora si è subito resa disponibile successivamente a quelli che sono stati tanti incidenti anche uno mortale e quindi siamo intervenuti proprio per creare oggi una rotatoria di un diametro complessivo di 31 metri con un braccio a direzione unica di 7 metri appunto di larghezza questo andrà a diminuire notevolmente la velocità che ricordiamo grazie ai rilievi arrivava sino a 80 km orari andrà ad aumentare invece la sicurezza di pedoni, ciclisti ed auto gli stessi automobilisti naturalmente ne potranno giovare sia in accesso a quella che è la zona residenziale del quartiere ma anche lungo la statale perché purtroppo lì le macchine vanno ad alta velocità oltre questo ci sarà anche un ampliamento di almeno 60 metri di pista ciclabile quindi un prolungamento a quella esistente che è stata proprio quest'estate illuminata e che verrà connessa all'area del distributore attraverso un attraversamento illuminato e continuerà sino alla parte diciamo della commerciale quella che proprio si affaccia sempre sulla stessa provinciale naturalmente questa rotatoria migliorerà anche l'accesso allo stesso quartiere e quindi a tutto quello che sono gli spazi di grande vivibilità quindi dalla chiesa a quelle che sono le residenze ma anche agli imprenditori per i quali veramente abbiamo posto tanta attenzione anche nel cronoprogramma dei lavori perché lavoreremo proprio su tre fasi in questa prima fase oltre appunto all'allestimento del cantiere non verrà interdetto l'ingresso da via del mulino quindi alla parte residenziale ma verrà interdetta l'uscita mentre il traffico sulla provinciale potrà svolgersi in entrambi i lati regolarmente la seconda fase dei lavori invece proprio perché andremo a lavorare su quello che è la pertinenza dell'ingresso in strada del mulino si chiuderà quella, si manterrà la provinciale in doppio senso di marcia e si chiuderà anche l'uscita da via del mulino in ultima fase e quindi sarà quella prossima all'ultimazione dei lavori invece verrà reso a senso alternato con semaforo o movieri quella che è la provinciale e a quel punto sia l'ingresso che l'uscita da via del mulino saranno aperte e completamente accessibili è chiaro che nel tempo in cui verrà interdetta l'uscita da via del mulino verso Carignano in quel momento potrà essere comunque fruibile passando all'interno della pertinenza del distributore capiamo che chiediamo un sacrificio per un periodo ma per arrivare veramente a riservere un problema importante tutto questo dovrebbe avvenire nel tempo di 3-4 mesi tempo permettendo e quindi siamo ben contenti ricordiamo che è un'opera che dà il costo di 225 mila euro di cui il comune ha stanziato 138 mila e la provincia grazie ad un finanziamento del MIT 87 mila euro e per la quale veramente ringraziamo per la preziosa collaborazione che sempre dimostra il gruppo consigliare della Lega Fano ha presentato un'interrogazione per chiedere all'amministrazione comunale un progetto di riqualificazione per la zona sud di Sassonia questa situazione di incuria e abbandono si legge in una nota esaspera i residenti e danneggia le attività economiche e turistiche occorre intervenire prima della stagione estiva cittadini ed esercenti hanno proseguito i consiglieri denunciano lo stato di degrado del manto stradale l'assenza di manutenzione del verde pubblico ma anche il totale abbandono dell'area denominata la montagnola parte integrante del poligono di tiro a segno quasi completamente distrutta nell'interrogazione ha spiegato il consigliere Luca Serfilippi chiediamo risposte certe sia sui tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione sia se esiste un piano di riqualificazione dell'area denominata le brecce inoltre chiediamo di valutare la possibilità di utilizzare i terreni comunali abbandonati per realizzare un nuovo parcheggio visto il calo degli stalli in Viale Dante Leghieri invece i consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedono la convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla sanità alla luce dell'imminente discussione dell'atteso piano socio-sanitario della regione l'istanza già sottoscritta dal gruppo consigliare del Movimento per essere depositata necessita dell'adesione di un quarto dei consiglieri comunali cioè sette sottoscrizioni arrotondate per eccesso che hanno scritto in una nota ci auguriamo possa avvenire celermente vista la centralità e la delicatezza dei temi in oggetto è stata risolta la questione dei paletti bianchi e rossi definiti da molti antiestetici al molo di Pesaro l'autorità portuale ha fatto sapere che prossimamente provvederà alla rimozione e studierà una soluzione alternativa via i paletti rossi e bianchi utilizzati come protezione dal molo di Pesaro dopo lunghe settimane di polemiche arriva la decisione definitiva battaglia vinta da Matteo Ricci sindaco di Pesaro e Andrea Biancani il consigliere regionale ha parlato così dell'argomento ai nostri microfoni sì devo dire che abbiamo fatto un incontro insieme al sindaco siamo andati a parlare direttamente all'autorità portuale in Ancona la promessa che l'autorità portuale ci ha fatto è di rimuoverli hanno promesso che ci avrebbero fatto avere una soluzione alternativa stiamo attendendo la soluzione alternativa che comunque non possono essere i paletti perché riteniamo che quella parte il molo di Levante è uno dei posti più belli che è la città di Pesaro dove ci sono tantissime persone che vanno appunto lì per godersi il tramonto ma soprattutto per godersi uno spazio veramente bello accogliente ma dove c'è tantissima tranquillità e quindi a breve stiamo aspettando questa soluzione ma ci auguriamo appunto che venga quanto prima per riuscire a trovare una soluzione a un progetto che così come oggi non va sicuramente bene perché per noi il porto deve essere un porto bello deve essere un porto accogliente e che i paletti come dire non sono sicuramente belli ma poi col passare degli anni o dei mesi saranno sicuramente rugginiti si diventeranno ancora più brutti e quindi andranno una sensazione di degrado in questa parte del porto di Pesaro Marco Pezzolesi amministratore unico dei ristoranti self-service Pesce Azzurro ha consegnato un assegno simbolico di 3550 euro a favore dei comuni marchigiani colpiti dall'alluvione nel settembre scorso la consegna è venuta sabato scorso alla presenza dell'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi e del vice commissario per il post alluvione nelle Marche Stefano Babini per la raccolta fondi il Pesce Azzurro aveva accantonato 5 centesimi a passo dal primo dicembre al 31 marzo nei suoi ristoranti di Fano Senigalli e Rimini Pesce Azzurro ha dichiarato Pezzolesi con la sua sensibilità e solidarietà continua ad aiutare coloro che si trovano in difficoltà in passato avevamo supportato il comune di Senigallia dopo l'alluvione e il comune di Finale Miglia dopo il terremoto è una iniziativa lodevole ha commentato Guzzi a conclusione di un iter che avevamo concordato grazie a un'idea di Pezzolesi ora questi fondi verranno destinati alle attività di riprissino e di messa in sicurezza del territorio dove a breve ci saranno importanti novità grazie ha poi aggiunto Babini perché questo è un segno che dà speranza a chi ha perso tutto e fiducia nel fatto che le cose possano cambiare e migliorare torniamo a parlare dei festeggiamenti del centenario della costruzione della chiesa Santa Croce di Calcinelli di Colli a Metauro che si sono conclusi ieri con un pranzo comiviale con circa 900 persone c'era per noi Filippo Pucci la pioggia non ha fermato i grandi festeggiamenti in occasione dei cento anni dalla costruzione nel lontano 10 maggio 1923 della chiesa di Santa Croce a Calcinelli domenica 14 l'intera comunità si è ritrovata per celebrare questo centenario con la Santa Messa delle ore 11 preseduta da Don Matteo Pucci per poi proseguire con un momento di convigialità che causa maltempo non si è svolto in piazza ma a Tavernelle all'interno di un grosso cappannone di una nota azienda del territorio oltre 900 le persone presenti che hanno preso parte al pranzo preparato in sinergia con le numerose realtà del posto e alle tante persone che insieme hanno dimostrato la vivacità di una comunità unita e volenterosa e ha sperimentato come la collaborazione crea unione proprio come ricorda il parroco c'è stato un bel momento in cui abbiamo concluso i festeggiamenti siamo radunati con tanti parrocchiani dopo la Messa delle Undici per mangiare insieme e soprattutto essere uniti nella collaborazione nel lavoro nell'organizzazione e nel gioire della vita e di questi cento anni di storia mi approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato da chi ha prestato le strutture da chi ha prestato la mano d'opera da chi si è reso disponibile in qualsiasi modo tutti lo sanno e prima sono stati nominati vi ringrazio di cuore perché è l'unione veramente che fa la forza lo stiamo sperimentando sulla pelle e guardiamo avanti guardiamo avanti perché cento anni è solo il desiderio di guardare i prossimi cento non ci saremo tutti logicamente però la storia si fa passo dopo passo un momento dopo un altro momento e l'unione delle persone che oggi si sono riunite e hanno collaborato ci fa dire che nulla è impossibile ma non c'è il desiderio di collaborare questo per noi adesso vorrà dire fare dei lavori nella struttura parrocchiale per riqualificarla migliorarla già abbiamo fatto una raccolta di fondi ma continuerà ma soprattutto vuol dire portare avanti le attività le attività educative sociali e aggregative nonché religiose per far crescere la comunità parrocchiale e civile di Calcinelli la parrocchia Santa Croce però ha vissuto una settimana ricca di eventi in occasione di questo centenario primo tra tutti l'inaugurazione di una mostra fotografica permanente sul percorso dei cento anni di storia della Chiesa a seguire mercoledì la Santa Messa con il Vescovo Trasarti che ha descritto la vita parrocchiale come una barca in mare che tra le onde confida sempre in Cristo e affronta così le vicende storiche con coraggio infine giovedì l'apertura del nuovo oratorio parrocchiale uno spazio animato da genitori per far incontrare giocare divertire e crescere i loro figli grazie ancora a tutti è stato un piacere una gioia e vedere ai volti delle persone contente di incontrarsi stanno insieme è ciò che veramente ci scalda il cuore a tutti a Vallefogli invece sabato scorso è stata inaugurata la 44esima edizione della mostra del libro per ragazzi i cui protagonisti sono stati gli studenti che hanno realizzato anche delle opere grazie alla collaborazione degli insegnanti del liceo artistico di Urbino e del liceo Mengaroni di Pesaro Cristiana Guerra Ambiente, famiglia scrittura creativa e narrazione sono i temi cardine dell'evento giunto alla 44esima edizione la mostra del libro per ragazzi l'evento in cui i protagonisti sono i bambini è stato inaugurato sabato scorso e proseguirà fino al 20 maggio all'interno della palestra comunale di Bottega il palafogli intitolato Sesto on the Day presenti all'inaugurazione della fabbrica del libro gli amministratori regionali i rappresentanti degli enti coinvolti e il sindaco Cucchielli che ha rimarcato come la mostra coinvolga tutto il territorio promuovendo e valorizzando il servizio bibliotecario locale 44esima edizione della mostra del libro che io ho visto nascere che ha un binomio perfetto perché i libri in un'epoca mediata come questa costringono tra virgolette i ragazzi le loro famiglie leggere un libro studiare piuttosto che stare al telefono alle radio alle televisioni a tutti questi che sono gli strumenti alla nuova tecnologia vedrà probabilmente il prossimo anno anche la 45esima edizione nel nuovo teatro Giovanni Santi con 336 posti che nasce qui a fianco quindi quest'anno saremo presenti anche a Torino diciamo oramai che è un'eccellenza della provincia di Piero Rubino del nord delle Marche ed è un fiorolocchiello di questa vallata che è una vallata del fare della genialità delle imprese ma anche dello studio della laboriosità una manifestazione dall'alto valore educativo che è diventata negli anni una delle più importanti rassegne della provincia e della regione grazie al lavoro degli insegnanti e collaboratori che attraverso laboratori letture e creazioni di elaborati vogliono far crescere sempre di più culturalmente i ragazzi la 44esima mostra del libro per ragazzi è in omaggio a Renata Agostoli una grande artista un artista che ha realizzato e ha lavorato in tutti i campi dell'editoria per ragazzi sia dal punto di vista di scrittrice illustratrice redattrice di riviste di libri per ragazzi e la mostra l'abbiamo voluto intitolare la fabbrica del libro proprio perché Renata Agostoli si definiva creatrice di libri tutte le mattine della prossima settimana fino a sabato a lunedì a sabato saranno dedicate esclusivamente alle scuole del territorio avremo la presenza di 52 classi per un totale di circa 1000 bambini ecco ci saranno laboratori condotti da Michela Gaudenzi letture ad alta voce che proporremo noi bibliotecari e quindi saranno delle mattine movimentate ma anche bellissime come tutti gli anni pomeriggi dedicati ai laboratori ogni pomeriggio ci sarà un'esperienza nuova un singolo bambino potrà venire tutti i pomeriggi e fare tantissime cose diverse e con questa notizia chiudiamo il telegiornale vi ricordo che tra poco il sindaco di Pergola Simona Guidarelli sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino adesso le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta anche tutti i miei milione domanda bambino il pianto Grazie a tutti.